Nel segno dell'imparzialità, la parola all'arbitro Doriano Torchio del Telaio del Cielo, parliamo di questa iniziativa anche se saranno sicuramente altri titolati organizzatori ad entrare più nei dettagli. Come è venuta l'idea di organizzare una partita del genere? Il vero organizzatore che ha messo l'anima, il cervello, la volontà di organizzare è stato Nazareno Gaffuri, noi tutti siamo stati coinvolti chi più direttamente e chi più indirettamente per dare una mano. Il mio coinvolgimento se vogliamo è ridotto al fatto che oggi sono chiamato ad arbitrare, a far sì che si rispettino le regole di un incontro di calcio. L'iniziativa è partita da lui e dal social forum dell'Erbese, dall'Alta Brianza. Però anche il Telaio del Cielo è coinvolto, in questa manifestazione come in tante altre? Diversi di noi sono impegnati nell'uno e nell'altro ambito, uno non si può sdoppiare a dire adesso al 50% sono, per l'altro 50% non lo sono. Quindi quando tu sei impegnato in prima persona, poi lo sai con tutte le tue anime e ti tira dietro, con il lavoro di quotidiano e con il tuo impegno nel sociale, variegato, diversificato che sia. Per cui ne sei coinvolto comunque. L'iniziativa di questo genere sono un po' atipiche in una realtà così, diciamo la pigra come quella di Erba? Beh no, ma sì, non ce ne sono tantissime se vogliamo, però per rompere la monotonia quotidiana ci vuole poco, un po' di intelligenza, ti attacchi al telefono o qualche altro mezzo di informazione e organizzi. Poi chiaro devi anche essere predisposto a un certo tipo di situazione, non devi essere chiuso verso certe realtà, se lo sei non organizzi niente, non agonizzi alcun che, quindi te ne stai a casa. Siamo abituati a vedere le classiche giacchette nere, se può passare il termine con le loro nuove divise, tu sfoggi una divisa variopinta, tra l'altro porti anche il simbolo della Lega antivivisezionista. Qual è il motivo sulla giacchetta? Ma questo per corretesco, questa giacchetta l'ho avuto dopo aver tenuto un corso di dirigente arbitro del CSI di Como, quindi sono dirigente arbitro per quanto riguarda la Pallavoro, quindi è un altro ambiente, mentre arbitro di calcio sono stato per il CSI di Como, ma in epoche un po' più removi, quindi ho avuto la divisa, oggi la uso, quindi visto che non la sono qui in abiti ufficiali, mi è sembrato fare ricorso ad altre delle mie esperienze, sono quelle di volontario del Caniero, che un bel simbolo contro la vivisezione ci sta bene, anche questo tipo di giornate. Consentici un riferimento alle prossime elezioni? Quali? Sì, mi risulta che si voti per la provincia di sicuro, per Erba non c'è ancora la certezza che la scadenza sia il 26 maggio, correggimi se è così. Diamola ormai per acquisita? Cosa farà Tor? Non lo so, quello che io colgo è che è molto inadeguatezza, sia inadeguati rispetto alle esigioni, io sono convinto che qualunque tipo di laboratorio politico, esperienza che tu vuoi presentare ha bisogno del tempo per maturare, per rodarsi, a Erba vedo dei ritardi, mi auguro di essere contraddetto dai fatti. Tu sai benissimo a chi mi riferisco, non certo al centrodestra che so che arriverà preparatissimo, magari litigheranno, ma poi alla fine si mette. Quando c'è degli interessi forti, prima o poi ci si accorda sul nome, mentre dall'altra parte magari ci si divide per motivi filosofici o altro. Mi auguro che non sarà così, a leggere i giornali non dovrebbe essere così, però anche nel 99 non doveva essere così ed ero io in prima fila, poi tu ben sai com'è andata a finire, speriamo che non si ripetano le fatti. Se arriverà mai una lista civica te l'hai del cielo? No, questo non sarebbe corretto, ognuno ha il proprio ambito di intervento, chi fa politica e chi promuove cultura. Certo poi non ci si sdoppia come ti ho detto prima, però bisogna essere corretto a tenere separate le due operazioni. Buona partita. Grazie. Bogdan di nazionalità polacca, uno dei responsabili di questa nazionale ROM. Come è venuta l'idea di allestire una squadra del genere? Siamo stati, è stato un giorno che ho passato io con un altro mio amico, ho conosciuto un po' di persone, abbiamo cominciato a pulire un po' il campo della sporcizia, poi ci è venuta l'idea di giocare una partita davanti a sgombro, perché era a rischio di sgombro, giocare una partita di calcio con consiglieri comunali di Milano. Se l'avete fatta? Sì, abbiamo vinto 1-0, anche perché c'era tutta parte di destra, era capitano la russa dell'Alleanza e tutto quanto, è andato bene, abbiamo vinto 1-0. E dopo c'è uscita l'idea di fare un'associazione sportiva multietnica 2001, che non dici solo che devono giocare ragazzi ROM, possono giocare anche altre nazionalità, che si può fare un po' di fratellanza. Per dire, da inizio quest'anno si siamo iscritti a CSI e cominciamo il campionato con la squadra 11, 7 e la squadra di basket. Diverse nazionalità, dici? Sì, perché ci sono anche brasiliani, ci sono polacchi, ci sono di Santo Domingo, ci sono ragazzi rumeni, ci sono rom-rumeni. Quali sono le difficoltà per aggregare tutti questi ragazzi durante gli incontri? Guarda che è importante che quando c'è qualcuno come io, che anche io sono emigrato, che sono venuto qua da 9 anni, ho passato anche le cose belle, cose brutte, un po' più o meno mi capisco con tutti i ragazzi, che mi sentono, ascoltano e andiamo così avanti. Dopo aver battuto i consiglieri comunali di Milano, oggi sicuramente batterete anche il Brianza Social Forum, ma in futuro quali altri incontri avete previsto? Perché non abbiamo solo giocato con consiglieri comunali, perché abbiamo per un anno, quello che abbiamo passato, più grande vincita erano con tutti, squadra nazionale di tutti i sindacati, CGL, CISWIL, che abbiamo vinto 9 a 0. Non c'è stata storia. Non c'è stata proprio la storia. C'è uscita una storia, perché ho sentito un po' di articoli in giornale e proprio da questo momento hanno visto, c'è quella multietnica 2001. Però in futuro, prossima settimana, giochiamo la partita con Kurdistan e dopo in finale di campionato Coppa di Clandestino.